Ciao Stefano, io per quanto riguarda la conversione ho scelto una storia che mi piace tantissimo, che è la storia di Zaccheo. Lui che per vedere Gesù si è messo addirittura in ridicolo, è salito su un albero e Gesù lo ha chiamato ed è sceso e noi realizzeremo tutto questo. Guarda un po' lo stampato, partiremo proprio da questo, lo ritaglieremo e iniziamo subito a costruirlo. Allora, una volta che abbiamo la nostra immagine dobbiamo fare un'operazione importante, io l'ho già fatta, facciamo dei piccoli fori e facciamo passare un filo che andremo a legare stretto stretto da dietro, in questo modo, quindi incolliamo per bene o meglio, leghiamo per bene, sono abituato a utilizzare la colla, ma noi questa volta leghiamo, quindi facciamo un bel nodino, in questo modo, perfetto, così ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo, c'è sempre poco tempo, ok, e così togliamo l'eccesso, poi prendiamo un pezzettino di scotch, già mi sono ritagliato il mio zaccheo che è pronto a scendere dall'albero, lo attacchiamo, attenzione, guarda un po' che cosa dobbiamo fare, mettiamo lo scotch qui, sopra mettiamo il nostro zaccheo, così, lo schiacciamo per bene e guarda un po', sale e scende dall'albero, guarda che carino, per rivedere tutti i nostri video potete cliccare qui il nostro QR code, vedete tutte le nostre idee creative, ciao Stefano!